ciao ciao hello hello hi hello hello io sono l'analisa io sono valentina e noi siamo le e bello sisters allora siccome mia sorella oggi ha deciso che non si capisce sì ciao this is crazy vi dirò io allora oggi andremo a fare una reaction di un tale che io non conosco assolutamente eresia lei lo sta consigliando di un baldo giovane che si chiama roi kim bello bello con la sua canzone suddenly quindi all'improvviso quindi vediamo comunque suddenly all'improvviso quindi improvvisamente noi guardiamo questo video e vediamo di cosa si tratta ok andiamo 3 2 1 ho paura io anche non lo so perché ho paura quindi è di tre settimane fa non lo so perché ho paura però i kim intanto è un solista solitamente fa ballard è biondo santa miseria biondo è mezzo nudo o santa miseria è mezzo nudo e biondo immaginavo che prima era vestita nero comunque ma è sempre stato un solista o fa parte di un gruppo e questa canzone dove lui è solista solista belle spalle è tutto bella mia morina ed è biondo ed essere vestito anche peccato non so come vestirsi si sta cambiando 50 volte peggio di una donna io vorrei vederlo in faccia però è ora di mangiare non sembra asparagi ehi pensiero solo colore di camicia anche no mamma questa meglio quello di prima dobbiamo portarlo al programma televisivo qua in italia ma come ti vestiti un cappello lungo scastano o comunque sfruttano scastano 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 volevo dire scuro e castano insieme mi sai è uscito scastano allora ma concentrati se mi volevi che mi concentravo allora mi concentrati hai rimesso il cappello sulla giacca lascialo lì fa vivo fa pandanno con la giacca che è scastano fa pandanno ok anche la casa fa schifo anche la carta da parati fa schifo anche la carta da parati fa schifo mamma mia ragazzo dove vivi o mamma mia qualcuno ce l'aveva con lui se ne va mi sa te indeciso se ne devi andare credo ma ti sarà stufato della carta da parati e cosa eh chiudi la se come se qualcuno che casetta che casetta via oh uè 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 oddio a doveva it's finish it's the end? nooo yeah nooo perchè... no 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 sì se l'ha amato non fa nessun senso questo video non capisco bella voce come al solito lui il suo genere appunto è ballad quindi me lo aspettavo che fosse una ballad bellissima voce lui amore mio è biondo ed è uno stragnocco biondo già mi piace normale figurati biondo e... il video non l'ho capito e non so cosa altro dire provo a dire io io ho anche lo so cosa dire la mia faccia parla per sé dissumendo è tutto in una sola parola b... non so questo ragazzo b... cosa pensare fisicamente di faccia allora facciamo un quadro generale lui non l'ho trovato con l'altra quindi b... il video non l'ho capito molto non sono riuscita neanche tanto a seguirlo perchè non mi ha invogliato quindi b... il senso anche che... boh... no 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 diciamo che il giudizio è non pervenuto mettiamola così caricamento in corso e non caricherà mai si non finisce mai la classidra speriamo che nei prossimi video che ci saranno che mi vorrà proporre mia sorella a far vedere saranno migliori di questo perchè sennò di solito ci dà una seconda possibilità a tutti ho sentito di meglio ho sentito di meglio quello è sicuro ho sentito di meglio Roy Kim ha fatto di meglio c'è un paio di canzoni addirittura a mia madre gli piace quindi... beh davvero? sì mamma gli piace due canzoni una è ballad e una è un po' più pop ballabile gli piacciono tutte e due effettivamente sì mi aspettavo un po' di più e non dico leggeramente noiosa però... oddio dai diciamo anche la verità un po' veramente... un po' mielosa un po' troppo mielosa speriamo che migliori abbiamo... che faremo la settimana prossima speriamo speriamo che sia anche se è ballad che... non lo so che coinvolga un po' di più e che riusciamo a capire un po' il significato del video si contando che comunque lui ha una bellissima voce quindi mi aspettavo... non lo so non lo so stavo morendo improvvisamente va beh mi sono morendo salutiamo alla prossima